Signore e signori buongiorno, da San Giuseppe il Falegnale e dalla Falegnameria San Giuseppe Oggi abbiamo una nuova iniziativa per cercare di far sì di incentivare un pochettino il lavoro perché tanto, come sapete, aiutati che Dio ti aiuta e la situazione se non incentivi non vai avanti E allora, oggi proponiamo, oltre la rottamazione che stiamo facendo in generale Oggi facciamo una nuova offerta Bene, la Falegnameria San Giuseppe offre e vi offre il servizio completo di un armadio attreante scorevoli misura lungo 2,70, quindi misura standard, per altezza 2,50 tutto in legno, con colore noce, colore ciliegio, colore noce chiaro, colore miele, come volete voi e tutto questo lo offre con 2.300 euro proprio prezzo, come si può dire, prezzo da record prezzo impossibile da abbattere fatto tutto dalle nostre mani, garantito ovviamente 20 anni e in tutto questo, con questo prezzo, perché non c'è inganno e non c'è inghippo voi ci date il vostro vecchio armadio o il vostro vecchio mobile che noi rottamiamo, ci prendiamo per mutarvelo al prezzo che dite voi e quindi automaticamente lo diforchiamo dal prezzo che noi già abbiamo dato dell'armadio e quindi non c'è inghippo, è tutto nell'onestà, fatto tutto nella regola e decidete voi quello che volete fare sia dal prezzo, alla costruzione, al disegno, al colore, a tutto quello che volete quindi mi raccomando, oggi siamo nati con questa offerta armadio treante scorevoli, lungo 2,70 m, alto 2,50 m, a treante scorevoli tutto in legno con il colore che voi scegliete garantito dalla nostra azienda 20 anni e lo permutiamo il vostro vecchio mobile per far sì di reintegrarlo nel prezzo che noi vi stiamo dando è un prezzo imbattibile a 2.300 euro noi diforchiamo quello che voi decidete che sia il prezzo giusto per il vostro mobile da rottamare signore e signori ancora una volta cerchiamo di andare avanti cerchiamo di aiutare questa economia che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere sostentata da noi perché purtroppo questo stato di cose e il governo incapace di intendere e di volere ha buttato giù e allora dobbiamo cercare di andare avanti di non arrenderci e combattere per cercare di cambiare lo stato delle cose e lo stato dell'economia quindi signore e signori mi raccomando armadio treante scorevole tutto in legno garantito 20 anni con qualsiasi essenza di colore completo di trasporto e montaggio 2.300 euro e in più da questo prezzo defalchiamo con la permutazione del vostro vecchio mobile di cui voi decidete il prezzo e noi faremo di tutto per accontentarvi e vi faremo un lavoro splendido quindi ancora una volta ancora una volta ancora una volta provare per credere provare per credere ciao